e certo ancora è proprio in tonso non c'è un briciolo di polvere certo da tre giorni è che ha aperto faccio sì lo vediamo certo gli ultimi cinque minuti di memoria o quindi ormai la sfruttiamo ma c'è Angela che ti sta guidando perché lei bene o male non è che